Il carcere di Avellino è completamente in mano ai delinquenti. È lapidario Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, che così commenta la recente duplice evasione dalla casa circondariale di Bellizzi, ma anche tutta un'altra serie di episodi che si sono verificati negli ultimi anni. Di Giacomo farà formale richiesta al ministro della giustizia Cartabia affinché ci sia un ricambio ai vertici dell'istituto Irpino. Secondo me il carcere di Avellino rappresenta il fallimento del sistema penitenziario. Rappresenta il fallimento perché il carcere di Avellino è completamente in mano ai delinquenti, ma non lo dico io, lo dice la direzione nazionale antimafia, ma lo dicono soprattutto i continui ritrovamenti di telefonini, i continui liti per prendere potere all'interno degli istituti. Però c'è una cosa che è molto grave, dal 2013 ad oggi sono evasi 8 detenuti. Solo nel 2013 quattro insieme e l'anno scorso due evasioni di due detenuti, tra cui questo detenuto molto pericoloso secondo me, che è sicuramente radicalizzato. Il direttore del carcere di Avellino, persona bravissima, bravo direttore, dal 2013 che dirige la circondariale di Avellino e in precedenza era il vice direttore. Il comandante, se non vado a rato, dal 2011, in una situazione del genere, un segnale di discontinuità per le organizzazioni criminali potrebbe essere un segnale molto molto importante. Ripeto, la mia presenza qua ad Avellino oggi è a evidenziare che il carcere di Avellino rappresenta quello che è il fallimento di un sistema carcerario che ha degli aspetti che vanno oltre la semprecarcerazione. A Di Giacomo non sfugge che a Bellizzi c'è anche un problema relativo alla carenza di personale. Nelle prossime settimane al carcere di Avellino saranno assegnati altri 15 agenti. In ogni caso i vertici sono tenuti ad ottimizzare al meglio le risorse, cosa che evidentemente, secondo Di Giacomo, non è avvenuta. È ovvio che c'è un problema di gestione, c'è un problema di personale evidentemente, però il personale quando c'è o ci sono carenze, la prima cosa che va fatta va cercata un'ottimizzazione del personale che abbiamo a disposizione. La carenza c'è ed è marcata e su questo l'amministrazione sta intervenendo anche su nostra iniziativa nel mese di marzo arriverà del nuovo personale verso la circondazione di Avellino, però quando ci sono le difficoltà le difficoltà si affrontano cercando di razionalizzare al meglio il personale che si ha.